L'Abruzzo si stringe attorno alle famiglie dei quattro escursionisti uccisi da una valanga sul Monte Velino. Valeria Mella, 25 anni, Gianmarco Degni, 26 anni, Gian Mauro Frabotta, 33 anni, Tonino Durante, 60 anni. I quattro avezzanesi erano spariti nel nulla il 24 gennaio scorso e i loro corpi sono stati ritrovati tre giorni fa. Questo pomeriggio, alla Cattedrale dei Marsi di Avezzano, si sono svolti i funerali. Esegue a partecipazione ristretta per le normative anti-covid, che però non hanno impedito alla comunità marsicana di accorrere in massa per l'ultimo saluto ai suoi concittadini. Tanta la commozione dentro e fuori la chiesa. Il silenzio delle sue lacrime cadrà sul tuo eterno rifugio montano come suono di campane. Ascoltale. Ascoltale e corri verso casa. La ti chiamano. Presente ai funerali le autorità, il governatore Marco Marsilio con le assessori imprudente Liris, il presidente provinciale Caruso, il sindaco del capoluogo Biondi. Oltre a quello di Avezzano di Pangrazio hanno partecipato, indossando la fascia tricolore, anche molti i primi cittadini degli altri comuni della Marsica. Avezzano oggi è l'epicentro del dolore, l'epicentro di questa situazione che ha creato scompiglio a tutta la regione. La Marsica è veramente in ginocchio, come chiaramente mi viene da tanti messaggi di tanti sindaci sul Mona, l'Aguila ed altri che hanno manifestato la loro solidarietà. Quindi questo è un giorno di dolore di tutti, di tutti, di tutti. 27 lunghissimi giorni di ricerche dal campo base di forme di Massadalbe, ostacolate spesso dalle condizioni meteo e dal pericolo valanghe. Accorsi in Abruzzo tantissimi soccorritori, con mezzi e cani molecolari da tutta Italia, che non si sono mai resi, neanche quando la speranza di riportare a casa i quattro sani e salvi ha iniziato a vacillare. Abbiamo imparato a essere un'unica famiglia, adesso a forme, nel vivere, nell'aspettare notizie, le migliori notizie che però non sono mai arrivate, nel contempo a gestire con molta difficoltà i soccorsi e quindi il ruovamento dei dispersi, che era già difficile il primo giorno, assumeva contorni sempre più difficili a mano che passavano i giorni, con anche la frustrazione di aver messo in campo tutto il possibile, credo non ci sia stato un precedente da questo punto di vista, come combinato e disposto di tutte le forze in campo, dai vigili del fuoco, soccorso al pieno, guarda di finanza, polizia, carabinieri e protezione civile regionale. Fin dal primo giorno i cittadini della Marsica si sono stretti attorno alle famiglie delle vittime, virtualmente tramite piccoli gesti di solidarietà. E non sono mancati nemmeno oggi, al triste epilogo, nel giorno dell'ultimo saluto.